Grazie a tutti 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 Ci sono alcune squadre che all'inizio sembravano più quotate, che sono in fondo alla classifica, secondo te ci sarà un ritorno di queste squadre? Ci sarà da valutare questo? Il vostro gruppo può contendere anche il successo a queste squadre? Beh, scendiamo in campo ogni domenica con l'obiettivo di portare a casa il massimo risultato, per cui di conseguenza l'obiettivo è quello di contendere la posta in palio ogni domenica a tutte le squadre. Comunque come ho detto prima è un percorso lungo, è un campionato molto lungo, per cui queste squadre che Mari sono partite col piede sbagliato hanno tempo di risalire un po' la classifica, ovviamente bisogna farlo il più prima possibile perché sarà difficile trovarsi Mari nel girone di ritorno nelle ultime posizioni, sarà difficile tornare su. Domenica arriva il Bellaria, una squadra che l'avevamo nominato prima, c'è un giocatore ex Bassano Cesca che avrà sicuramente dentro e avvenuto contro il Bassano, quindi cercherà di fare tutto per segnare. Toccherà a te marcare Cesca, immagino? Toccherà a noi del reparto difensivo marcarlo, ma lo conosciamo come giocatore, così come ci prepariamo con tutti gli altri avversari ogni domenica, faremo lo stesso con lui, è un avversario come gli altri, ci prepareremo per affrontarlo. Un Bassano che nell'ultima giornata ha preso parecchi cartellini, forse è anche questo un punto dove si deve migliorare qualcosa forse? Sì, mettiamo tanta cattiveria in campo, però bisogna, parlo anche dal punto di vista personale, bisogna gestire un po' le situazioni, i momenti, cercando di essere meno ruenti e temporizzando un po' di più, per cui c'è sempre da migliorare e si può lavorare anche su questo. Seppure avete perso sabato, la classifica sorride ancora, quindi si lavora tranquillamente per il momento? Tranquillamente, ma le partite vanno preparate tutte al meglio, per cui questa settimana è una settimana come tutte le altre, anzi vogliamo rifarci sin da subito del passo falso di domenica, per cui si lavora sempre al massimo dell'intensità e al massimo delle nostre possibilità. Federico Furnan, a livello personale tu sei uno di quelli che ha avuto rendimento più alto in queste giornate, c'è da commentare una sconfitta sabato che fa un po' male? Sì, domenica diciamo che siamo andati un po' in difficoltà, cerchiamo di assimilare il tutto e lasciarcela alle spalle, prendere il peggio e trasformarlo in meglio e per domenica che sarà una grande partita. A livello personale sarei sicuramente soddisfatto di come hai giocato fino a questo momento? Sì, sono soddisfatto, anche se sabato potevo fare molto meglio, comunque il rendimento a differenza dell'anno scorso è cambiato. Dicevi bene, bisogna già guardare avanti, domenica arriva il bell'aria, squadra molto tosta, bisogna subito abbassare la testa e andare? Eh sì, dobbiamo lasciarci alle spalle la partita di sabato, capire gli errori che abbiamo fatto e affrontare al meglio la partita di domenica. Un bell'aria che presenta tra le altre cose l'ex Cesca che qui a Bassano vorrà fare sicuramente molto bene, sarà un pericolo costante per il Bassano? Eh, Cesca ha giocato con me a Samarino, sappiamo tutti che è un giocatore importante e diciamo però che il bell'aria non ha solo Cesca, ha anche altri giocatori e comunque bisogna tenerlo d'occhio. Per quanto riguarda invece, qui una volta parliamo di te, che differenza noti tra il campionato scorso e quest'anno a livello tuo di posizione? Eh, a livello mio di posizione è diverso perché l'anno scorso percorrevo tutta la fascia, mentre quest'anno sono più lucido nel puntare l'uomo in fase offensiva, è questa differenza. Per quanto riguarda la classifica, parlavamo anche prima con Nicola Bizzotto, una classifica che sorride ancora, sebbene avete perso sabato, però adesso bisogna mettere punti in cascina quanto prima. Sì, beh, la classifica adesso non bisogna guardarla, bisognerà guardarla a gennaio se c'è da guardarla. Perché adesso siamo ancora tutte lì. Avete sconfitto con la tratta del calibro della Spal, dei Rimini e altre squadre, insomma un Bassano che ha fatto vedere di valere questa posizione. Non ci sono squadre che vi fanno paura, insomma. No, come aveva detto il mister, noi possiamo giocarcela con tutti. L'importante è che dobbiamo scendere sempre con la testa giusta in campo. Grazie. 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 Grazie.